Ciao a tutti ragazzi, sono Kevin Chigozze e con voi un nuovo video su FIFA 14 non andiamo all'ultimo team perchè non ho l'online ho l'online però non ho ancora messo voglio metterlo quando è il tempo giusto che adesso iniziamo a giocare all'offline dopo altri episodi facendo tipo online così cosa possiamo scegliere ma traide contro questa squadra ragazzi guardati guardati Benzema Benzema torna indietro torna per fare i numeri torna indietro torna indietro per fare i numeri e dopo fana cacca ok ragazzi carlos che scherzo cosa scherzo cacca un po' più basso ok ragazzi prendi la palla sì no dai io faccio schifo giocare a FIFA una volta ero troppo bravo adesso con GTI giochi gioco da tanto FIFA quindi tanto così debili prima ero più forte di Dexter no scherzo no ma perchè come fai a essere così forte sono la squadra più potente no il potere non si fa sorprendere eh già si ma però si muovono si muovono un cavolo no 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 che cazzo duro sì adesso arriva un grande Kevin guardate 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 adesso sei incazzato nero che sono io già nero no guardate guardate fa il tuo è buona UFFAAAH c'è johnny crick duro la difesa mi fa un cavolo il Madrid fa sofferto schifo, 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 sì ma però è solo premere B e basta, può passarlo con Y, può fare i numeri, da poi fare la viranica, da poi schiacciare LB e Y, e poi fa così, e da poi va fuori. Fidek, 0-1-0 se neanche la Madre di contro una squadra più debole, uno spettacolo, 78 Fidek, leggo, la Fidek, i Geng, i Leggings, no 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 no! Corri! Cazzo che duro! Eh ma è allora che roba, prendi la palla, prendi la palla, va, va, va. tira giocci il caldo carla sull'incorso di piaudini c grazie questo compito come si gioca scuola il suo il servizio stelle stiletto in dettagli il appello è l'exporti si faccio da colchina quando il colchina prende la palla prende la palla prende la palla VOTO! ero fatto cavolo arbitro sei tu cos'è scemo mi scomigiano non ho fatto niente ho fatto su così e' lui che si è andato contro ragazzi importa no 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 oh ragazzi che fortuna che fortuna della cacca però eh ora ora lo passa oh ragazzi ragazzi lo passa ancora e non lo passa perchè dice che non è fallo adesso dico chi è il fallo adesso prende la palla prende la palla era bella è bella il tuo culo fide carlo un cavolo che è carlos del carlos è la carota del carlos provo a gorsare colpi di te nessuno lì nessuno eh ma si ma si ma si ma si ma madrid 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 ragazzi 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 è un pro un cavolo no facciamo un video di dieci noti almeno adesso sono 4 iscritti grazie per fare i 4 iscritti a me non ho iscritto chi mi ha iscritti iscritto 90 90 90 visitazioni e solo 4 iscritti ciao sono io sono i vostri cittadini sono 100 mille iniziazione sulla di cesti per colpa vostra e se scriveretevi sempre pollici sono un pollice in giù mamma mia a golazzi a i che mi sono fatto male i piedi per colpa di fifa o fifa di quattordici o fifa di quattordici ragazzi se gioco fifa o fifa di quattordici copi di testa e il passato e il passato il passato ragazzi che numeraccio non attacchi niente no sarebbe fallo testa di minchia ok ok whatafox ragazzi adesso facciamo ragazzi 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 so farlo brutti coglioni figli d d d d d d la mela si chiama mela ti piace il mese ti piacciono cosa cosa fanno un giallo un giallo che diavolo però e adesso sto in porta faccio un paratone parata no no senti ho finito il primo tempo adesso il video finisce qui e ciao ragazzi ho finito no qui co